L'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna ha approvato la risoluzione presentata lo scorso 19 marzo dal Movimento 5 Stelle, prima firmataria alla consigliera Piccinini, che impegna la Giunta a procedere verso la creazione di un registro regionale dei tumori. Siamo molto orgogliosi di essere riusciti a tagliare questo importante traguardo, aggiunge Silvia Piccinini. In questo modo avremo uno strumento in più per combattere sia le malattie, sia progetti ed opere pubbliche che potrebbero agevolare la diffusione, ha commentato la consigliera Piccinini.